Riscoprire i sapori della tradizione seguendo le tracce di Leonardo ricorre quest'anno il 500esimo anniversario della morte del genio toscano, un'occasione ghiotta per la terza edizione del festival La Valle dei Formaggi, perché, come testimoniato da numerose fonti, Leonardo visitò e risplorò la vassassina apprezzandone le bellezze naturalistiche. Quale migliore occasione allora per una rassegna che si prefigge di valorizzare le eccellenze locali? Il sabato 10 agosto, presso la sede della comunità Montana Barzio, sarà inaugurata la mostra Leonardo e la vassassina a cura di Giacomo Camozini, Michele Mauri, Paolo Vallara, Paolo Bellavite e Paolo Cagnotto. La rassegna propone un interessante percorso di scoperta dei luoghi del territorio ricchese che Leonardo aveva conosciuto ed apprezzato. Quest'anno ci sarà il momento importante dedicato al grande Leonardo, il quale, come faranno tutte le persone che accoglieranno l'invito a partecipare ai vari eventi, percorreva le nostre vallate, le nostre montagne e il nostro lago. Per cui abbiamo voluto proprio introdurre anche questa figura come promotore del nostro territorio. Lui che l'ha conosciuta così bene e che ha voluto ritrarla e ha voluto parlarne anche nelle sue opere. Abbiamo voluto dedicare alcuni eventi in particolare alla celebrazione dell'anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Non ci siamo lasciati sfuggire in opportunità come questa, proprio perché il nostro territorio è stato esplorato, studiato, descritto e certificato da un grande genio come Leonardo e quindi per noi diventa un importante testimonio della promozione del nostro territorio. Quindi l'appuntamento con Leonardo è il 10 di agosto, il giorno dell'inaugurazione della Sagra delle Sagre, alle 11.30 presso l'edificio della sede della comunità montana Valsassina, Valvarrone, Valdesino e Riviera. Siete tutti invitati a partecipare.